e allora fatevi un applauso andiamo a trattare subito qualche argomento più nel particolare per esempio l'amore vi piace come argomento? vedo che navighiamo tutti in questo mare marrone di melma che comunemente chiamiamo amore l'amore è una cosa meravigliosa ma purtroppo comporta delle rinunce prossimo un brano sulle rinunce in amore che fa così per te solo per te ho tolto di mezzo le sigarette l'azzone si titola stanno nel mobiletto sempre sull'amore il prossimo brano tratto da una storia vera si titola stavi in un ascensore con otto pizze in mano e una bella ragazza di fianco se non che mi accade questa cosa un brano nell'intimo che tarantello non mi posso trattare un brano di male questo problema non me ne posso trattare come farò mi proteggiu io non lo so chiamati tu come farò mannaggia ben zebu io non lo so ma che per caso mi puliscerà la tadù e me le grattue d'un amore sboccio un applauso all'amore che sboccia un applauso all'amore